Il 27 giugno, giovedì prossimo, al Teatro Filarmonici di Ascoli faremo la quarta iniziativa riguardo Smau Marche. È un appuntamento sulle start-up innovative, sull'innovazione, secondo me più importante del centro Italia. Considerate che Smau, prima di Ascoli, c'è stata Smau Parigi, Smau San Francisco, Smau Ascoli e poi chiude con Smau Milano. Per darvi un po' l'idea di che cosa stiamo parlando. In sostanza le imprese si incontrano in networking con le start-up innovative per creare rete, per confrontarsi su tutto quello che c'è ad oggi di altamente qualificato tecnico rispetto all'innovazione, alla digitalizzazione, a tutti quei processi che rendono le idee vincenti nel campo delle imprese. Sarà l'occasione anche per fare un focus specifico su un tema che è quello ormai nostro delle marche, ovvero sul benessere. Cioè saranno anche delle premiazioni, premieremo le start-up innovative che appunto avranno più innovato, avranno più creato idee sull'idea del benessere e del well-being.